Sempre per l'ottima collaborazione che prestano a questa amministrazione comunale, che stanno poi arricchita appunto dalla festa del Menoir, dove il direttore artistico è il nostro carissimo Dramianello. Noi siamo soddisfatti di questo perché comunque ricchiamo, come abbiamo già detto più volte, il cartellone estivo di eventi culturali di vostro allievo. E' quello che abbiamo sempre voluto portare avanti, alzando sempre l'asticella, e quest'anno comunque siamo riusciti con la riserva di ricordi a portare ancora più in alto quella che è la parte, diciamo, culturale del nostro cartello estivo. Nel particolare, appunto, lascio poi intervenire gli altri che hanno, magari, per approfondire gli argomenti, hanno più, diciamo, notizie, più, diciamo, per approfondire, per spiegare un po' quello che sarà l'attesa di nuovo. Sì, grazie. Sì, grazie.